ma perché ogni due o tre mesi devo fare un video del genere dove smentisco le fake news che arrivano su gta 6 allora raga cos'è successo nella giornata di ieri più precisamente nella notte tra sabato e domenica questo account twitter di questo liam uno dello staff di gta base ha messo in giro questa notizia che gta 6 sarà rimandato al 2026 questo tweet ha fatto alzare un polverone in tutta la community soprattutto su twitter polverone che è arrivato anche in italia e alcuni ne sono stati letteralmente intossicati cos'è il problema raga il problema non è che ha detto che il gioco è in ritardo il problema è che quando molte persone gli hanno chiesto di dire la fonte chi gli ha dato questa notizia questo liam non ha voluto dare la fonte successivamente ha detto che ne ha parlato con jason schreier jason schreier scusate non so la pronuncia questo qui è un giornalista super affidabile del mondo dei videogiochi dice quasi sempre la verità successivamente tantissime persone hanno chiesto questa cosa a jason schreier che jason schreier ha poi smentito con uno e più twitter dopo un po' che gli continuavano ad arrivare messaggi lui ha detto non so è domenica sto solo cercando di guardare il football se ho qualcosa da segnalare lo segnalerò perciò lui non ha niente da segnalare successivamente questo liam ha fatto un post un po' di scuse non ammettendo le sue colpe dicendo che qualcuno magari l'ha preso in giro successivamente ancora questo liam ha detto che le sue fonti di questa notizia del ritardo sono due sviluppatori di due studi differenti di rockstar ma non può fare il nome di questi sviluppatori perché altrimenti potrebbero essere licenziati ma come liam prima hai detto che te l'ha detto jason schreier anzi prima di tutto non volevi dire le fonti poi ha detto che è stato jason schreier jason schreier ha detto che non ha mai parlato con te successivamente hai detto che magari ti hanno preso in giro successivamente è rincarato la dose dicendo che gta 6 sarà rinviato e te l'hanno detto degli sviluppatori di rockstar di due studi di rockstar di sviluppo quindi te l'ha detto jason schreier te l'hanno detto gli sviluppatori secondo me raga è un castello di carte che è venuto giù la cosa fantastica è che era già stato smentito dopo poco tempo da tantissimi account super seguiti vi metto qua adesso un po di tweet in questo tweet rockstar universe dice che ha parlato con diversi sviluppatori e anche con jason schreier e non sapevano di questo ritardo e non c'è alcun ritardo ciò significa che non è detto che tra due settimane un mese o più avanti gta 6 non potrebbero subire ritardi questo non lo sanno loro non lo può neanche sapere rockstar perché magari ci potrebbero essere incidenti di percorso e non lo posso sapere io ma al momento la finestra di lancio di gta 6 è ancora nell'autunno 2025 questo ve lo dico raga perché uno o due mesi fa è la stessa cosa che vi ho detto poi live quando mi chiedevate questa cosa c'è stata la chiamata sugli utili di take two e lo stesso CEO di take two che è la società che fa capo a rockstar games ha detto che la finestra di lancio di gta 6 sarà nell'autunno 2025 raga rockstar e take two sono aziende quotate in borsa ciò significa che fatturano milioni milioni di dollari se loro dicono che nell'autunno 2025 uscirà il loro prodotto di punta perché gta 6 è un prodotto per loro di punta atteso in tutto il mondo se loro dicono una data autunno 2025 e poi la ritardano loro vanno a perdere letteralmente non mille dollari 10.000 dollari 100.000 dollari ma vanno a perdere milioni e milioni di dollari tra sponsor investitori e chi più ne ha più ne metta perciò se uno o due mesi fa quando c'è stata la chiamata sugli utili hanno detto che la finestra del lancio al 2000 autunno 2025 sarebbe stato un autogol clamoroso non dire agli investitori che il gioco era in ritardo e si sarebbero dati una zappa clamorosa da solo sui piedi e avrebbero perso milioni e milioni di dollari se poi vogliamo essere pignoli raga l'ultima cosa che ci ha fatto sapere rockstar games su gta 6 è stato il 5 dicembre del 2023 quando ha pubblicato il trailer di gta 6 è da lì che mamma rockstar non ci parla più di gta 6 l'ultima notizia vera arrivata dal ceo è quella che vi ho detto appena adesso che nella chiamata sugli utili la finestra di lancio per per gta 6 è l'autunno 2025 un'altra notizia anzi l'unica notizia vera arrivata su gta 6 nei giorni scorsi e che non mi fa pensare che il gioco è in ritardo è che una band o un cantante ha rifiutato da rockstar games 7500 dollari per avere una delle sue canzoni dentro gta 6 la risposta del cantante è anche stata abbastanza arrogante perché gli ha detto avete fatto avete una previsione per gta 6 di 8.6 miliardi e voi mi date solo 7500 dollari andatevene a quel paese c'è veramente oltre a essere arrogante questo è anche stupido raga perché le canzoni di tutti i gta sono famose in tutto il mondo gta 6 lo stanno aspettando letteralmente un sacco di persone in tutto il mondo oltre i 7500 dollari avrebbe avuto una fama e una notorietà che sicuramente non avrebbe mai avuto facendo le sue canzoni e i suoi concerti almeno questo è solo il mio pensiero la cosa che mi ha fatto pensare però di questa notizia non è tanto il tipo che ha rifiutato l'offerta è questa però raga io non sono uno sviluppatore e non lavoro per rockstar ma credo che quando si sviluppa un gioco come gta le canzoni della radio sono una delle ultime cose che si va ad inserire in un gioco di queste dimensioni almeno credo per questo motivo penso che il gioco sia un buon punto con lo sviluppo altrimenti non andrebbero in giro a chiedere le canzoni si concentrerebbero di più su che ne so io la grafica il gameplay bug eccetera eccetera perciò questa notizia del cantante a me mi fa davvero ben sperare che gta 6 non sarà in ritardo se poi raga come ho detto prima viene in ritardo tra una settimana un mese tre mesi io non lo posso sapere ma al momento la finestra di lancio di gta 6 è autunno 2025 oltretutto rockstar games sui suoi social ufficiali ancora questa immagine dove c'è scritto coming 2025 poi come ho già detto più volte io non posso sapere se tra una settimana un mese tre mesi sei mesi il gioco verrà ritardato ma per il momento la finestra di lancio è ancora autunno 2025 raga purtroppo su youtube twitter instagram e su tutti i social ci sono persone che per qualche like e visualizzazioni farebbero di tutto anche mettere in giro fake news e di questi account ce n'è uno veramente assurdo guardate questo tweet dove dice che in gta 6 arriverà atlantide dopo il mistero del monte ciglia di gta 6 ci sarà atlantide raga deve essere poi il vostro buon senso a capire qual è una cazzata e quale no io raga ve lo dico sempre su gta 6 di prendere tutte le notizie con le pinze stessa cosa ve lo dico quando stanno per uscire i dlc di gta online perché anche lì escono parecchie cazzate raga non è che io non vi parlo di gta 6 perché non mi interessa non mi piace e non lo voglio io non vi parlo di gta 6 perché notizie ufficiali vere affidabili purtroppo non ce ne sono e sarebbe inutile farvi video del genere lo so che ci sono canali che fanno uno due video a settimana dove dicono di gta 6 ci sarà questo gta 6 ci sarà quello ma raga sono solo loro pensieri dovrebbero mettere questa cosa ben specificata anzi io vi invito a fare una cosa visto che ci sono canali che dal 2013 che dicono che l'anno dopo sarà l'anno di gta 6 quando veramente uscirà gta 6 vi invito a andare a vedere tutti i video che stanno uscendo in questo periodo nei mesi scorsi fino al lancio di gta 6 e vedere quante delle cose che dicono in questi video che ci saranno in gta 6 ci saranno effettivamente nel gioco io credo che molti youtuber soprattutto nostrani cancelleranno o renderanno privati parecchi video ve lo ho anche sempre detto raga uno dei motivi per il quale ho voluto aprire un canale youtube è perché ero stufo di guardarmi video con fake news clickbait e tutte le schifezze che ci sono purtroppo anche nel nostro paese su alcuni canali raga fatemi sapere la vostra opinione nei commenti qua sotto fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa fatemi sapere ogni cosa io vi ringrazio di cuore a tutti del supporto e come ho detto prima io raga non posso sapere se fra una settimana due mesi sei mesi gta 6 sarà rinviato per il momento gta 6 non sarà rinviato un grazie di cuore a tutti del supporto e ci sentiamo al prossimo video ciao ragazzi